venerdì 14 aprile 2023 mi trovo al mio orto archipiano del fucino regione abruzzo stamattina c'è stata la pioggia pura ieri non molta guardiamo il paesaggio circostante nuvole basse per esperienza so che arriverà altra pioggia qui ci troviamo all'estrema periferia nord est del comunico dei mazzi questo che questo mondo la ciocco nulla e bassa la nostra parte qui cosa c'è ma dalle partite pezzano sarà nella montagna arriva sempre più acqua in altra quota vediamo un po se comincia ad arrivare il vento si inizia la rio la piazza ecco qui è una nera non si vede nebbie basse qui verso cerchio ed aielli a una botta staglia pur la verso san benedetto ma secondo le previsione c'è una azzeccata